Ciao amici, siamo in maggio, il mese in cui nell'antico Egitto si celebravano i misteri di Iside. Proprio in questo mese il Rinascimento ha deciso di lanciare un meraviglioso tarocco in stile Egizio. Eccolo. Questo masso straordinario fu creato nel 1926 dall'esoterista francese spanner degli Olympics. Questo è il retro. Come vedete sono tutte dipinte su papiro. Ci sono quattro figure chiamate testimoni. E poi ci sono due talismani, l'occhio di Horus e la croce rossata. Chiunque sia appassionato di esoterismo, in particolare di cartomanzia, di egittologia, non deve perdere questa occasione. Con queste carte potete entrare in una dimensione misteriosa legata al mondo magico degli antichi egisti. Scoprirete che le antiche divinità sono rappresentazioni simboliche di stati d'animo e di azioni che compiamo ogni giorno. Scoprirete anche come usare queste carte grazie al bellissimo manuale a colori allegato al mazzo. Quest'opera splendida davvero è prodotta di due differenti edizioni, entrambe a tiratura limitata deluxe e artbox. Potete prenotare a Rinascimento Italia Style Art. Ciao amici! Grazie! Grazie! Grazie!